Sono oltre 160 gli atleti che oggi e domani parteciperanno alla Coppa Italia regionale di Scherma 2017, valevole come fase di qualificazione per la prova nazionale assoluti. Ad ospitare la manifestazione organizzata dall'Associazione Sportiva Il Discobolo di Sciacca sarà il Palatornambe di Ribera che per la prima volta apre le porte ad un evento di Scherma. A Ribera ci sarà dunque il meglio della Scherma per tentare la qualificazione ai campionati italiani assoluti. Sabato e la domenica il Palazzetto Nino Tornambè di Via Berlinguer ospiterà la Coppa Italia regionale di Scherma. Una manifestazione organizzata dall'Associazione Sportiva Il Discobolo di Sciacca in collaborazione con il CONI e con il patrocinio del Comune di Ribera. Ovviamente è una manifestazione essendo una Coppa Italia per la qualificazione regionale che attirerà sportivi da gran parte della Sicilia. Ovviamente è un ritorno economico anche per la nostra città perché ovviamente essendo in due giorni ospiteremo nelle nostre strutture ricettive i partecipanti. Ma la Coppa Italia regionale di Scherma non è l'unico evento sportivo del fine settimana a Ribera. La città delle Arance ospiterà domani anche il campionato regionale di pattinaggio di corsa su strada. Sempre domenica altro evento invece che si svolgerà nell'area di ammassamento della protezione civile sita nei pressi del cimitero e invece lì si svolgerà il campionato regionale di pattinaggio su corsa organizzato dalla Polisportivacis di Agrigento. E anche in quella giornata per quell'evento sicuramente si prevede una grande presenza di pubblico. e anche in quella giornata per l'evento sicuramente si prevede una grande presenza di pubblico.